Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Mari ed oggi voglio farvi vedere come ho realizzato il tavolo delle feste del compleanno di Adriano a tema Minecraft. Ho acquistato in un negozio dedicato agli addocchi per le feste una tovaglia madrone e una tovaglia verde. Il madrone e il verde stanno ad indicare il terreno e il prato di Minecraft. Ho deciso quindi di utilizzare, con l'aiuto di Alice che è una professionista nel settore delle feste, oggi è la mia aiutante, ho deciso di acquistare dei tovaglioli, piatti e bicchieri marroni per spezzare il colore. Ho utilizzato delle semplici bottigliette di acqua, nelle quali ho messo poi le targhette, le ho posizionate lateralmente 6 e 6 per creare proprio la simmetria. ho realizzato poi un centro tavola, ho messo anche una spada che ho realizzato in cartoncino e l'ho appoggiata qui, come era appoggiata, era appoggiata qui così, adesso casca, ok. Ed ho realizzato anche la bandierina Happy Birthday. Questo è tutto quello che io ho fatto per la festa di Adriano. Mancano delle cose che adesso vi faccio vedere. Ecco le quali bomboniere, qua ci sono i segnalibri che ho fatto plastificandoli, ho inserito poi delle bustine con 3 caramelline e il bigliettino di ringraziamento e questo ho messo in una cesta verde che richiama sempre il colore della festa. Durante la festa ci sarà anche una bellissima caccia al tesoro e per questo ho deciso di creare, di stampare dei giochini da tavolo da fare a modi enigmistica diciamo un po', e vedrete tutto comunque nei vlog, nei video di DIY Tutorials di come ho sistemato tutti gli stampabili per la festa. Credo che sia tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, che questa mise en table vi sia piaciuta. Se avete bisogno di consigli per le feste chiedete pure, io sono un'appassionata da sempre, ho sempre organizzato le feste dei miei bambini da sola, utilizzando sempre tantissime idee prese sulla rete, trasformate in base alle mie esigenze, quindi qualora aveste bisogno mi raccomando ricordatevi che c'è Mari pronta sempre ad aiutarvi anche a realizzare delle cose per voi su richieste, ovviamente, mi potete scrivere giù nell'info box, avete anche l'email, quindi potete contattarmi sempre quando volete. Questo è tutto, adesso io vi saluto, mi raccomando, io giù nelle schede informative, qua c'è Alice che mi saluta pure, nelle schede informative vi metto anche gli altri video che ho realizzato negli scorsi anni con altre decorazioni fai da te, a tema Super Pigiamini, Hello Kitty e chissà se c'era anche qualche altra cosa. Se vi piace questa tipologia di video, mi raccomando, scrivetemelo giù nei commenti. Se avete richieste di stampabili per feste o decorazioni per feste a tema particolare, fatemelo sapere che io vi posso anche realizzare dei video dove posso consigliarvi dove andare a prendere determinate cose o le realizzo opposte per voi. Mi raccomando allora, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, vi mando un grande bacio, ciao a tutti, grazie per essere stati qui con noi, io ed Alice vi salutiamo, ciao! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.